Buongiorno ragazzi, quadro stappei, missione New York. A parte che non sono pronta, questo che comporta un imitivo. Gli fai una cenata e lui ti compra una pezza nuova. Grande idea! Ma no, gli dimostrerò che sono determinata e che quando ci metto in genio, oltre alla sconciatura è splendida, la mia testa fa grandi cose. Ecco i vostri compiti. Ho sentito Bridget che ha sentito Costanz, che è stata con Jen, che è stata su Facebook con Cara, che ha un'amica che ha soffreso con il suo ragazzo e poi lei ha scaricato questo, di un appartamento costruibile New York, di un nuovo suo sostanzo e la casa più bella che ci posso ottenere nella grande mela. Mi sembra perfetto. Inseghi più. Non credo. Invece sì. E' più distante dalla boutique di Chanel e dal teatro di Michel. Ok. E ora passiamo al pianto. Esatto. Algo cerca un negozio, un adulto e un cane. Vuole il capire? Pullman? Salve, siamo per conto di Shantai Evans. Il signor Taylor voleva farle un'audizione per un nuovo musical. Per questa settimana è a trefetto. Ciao! E ora vedi il nuovo disco. E questo lo indosserò alla prima. Non è scontato. Le terzine amplificano il bagliore dei flash dei paparazzi. Di cos'è a me? Puoi mettere qualunque cosa. Oh, i alibi da sbito lo posso mettere qualunque cosa. No. Mi ha un nostro di tutto. Bene. Voglio mostrare a papà quello che abbiamo fatto. Ragazze? E gente del posto? New York mi chiama. E questa chiamata non finirà in segreteria telefonica. Allora, per ricapitolare, questo è un spogliatoio. E questa è la mia camera. Ci saranno molti vestiti. Io li metterò tutti. Che forse non a farvi, so. Tesoro, non sono del tutto convinto. Papà, mi hai detto di non averti dimostrato di essere pronta. Ma guarda. Ho preso in mano la situazione e salvare meno rovinare la manichione. La vita non è facile come attaccare delle cose su una lavagna. Ma io ho organizzato tutto da sola. E ho usato la pacchetta. Non lo so. Ti prego, papà. Da sola. E oltretutto a New York. Sai, la mia prima amica del college, Michelle, ha un sito alla NYU. L'ho conosciuto, è un bravo ragazzo. Potrei chiedermi di passare a dare l'occhiata. Che mi dici? Pensi da più di essere pronta per questo passo. So di potercela fare. Lo so come tocchi già la nominona e che la distanza tra i miei occhi è perfetta per fare la postmodel. Quello che ancora non so, se tu credi in me. Mamma, sembra che invece... Va bene, hai la mia benedizione. Grazie, papà. Ti avrò mai sempre chiedermi con il tuo figlio. Grazie, mamma. C'è una sola condizione. Va bene, accetto qualunque cosa. Hai sempre un mese. Ti pagherò il ruolo per New York e anche l'attico. Dovete solo entrare nello spettacolo e trovarmi che puoi farci la vassura. Un mese. Ci stai? Ci sto. Se non funzionerà, sconderai e lavorerai per me. A casa e casa. La vorrei? Sì, amore. Questo è l'accordo. O sponderai o tra un mese lavorerai per me. Va bene, sponderò, vedrai. Star Pace Fabulous Adventure. Inclima TV il 24 settembre alle 14. Solo a Disney Channel.